eccoci oggi vediamo questo gilet termico riscaldato che mi hanno inviato taglia m materiali molto buoni al tatto sembra un pile quasi vellutato molto a trama molto fine quindi molto bello all'interno stessa cosa foderato molto bene mi piace le rifiniture sono fatte davvero bene si vedono le placche riscaldanti come potete vedere ce n'è sulla spalla spalla centro schiena e petto davanti e petto davanti proviamo la vestibilità ok nel frattempo cerniera destra con aggancio per il power bank che power bank che non è in dotazione pulsante per accensione tasca interna solo da un lato sinistro e altra tasca sinistra sempre anch'essa però senza il cavo all'interno quindi è una tasca libera io avrei preferito onestamente che il power bank fosse nella tasca interna e avrei lasciato libere le due tasche laterali esterne invece in questo momento se uno inserisce il power bank è praticamente la capienza della tasca viene quasi ad annullarsi proviamo eccoci io che sono alto un metro e settantacinque attualmente 70 kg sono dimagrito un po la taglia m io sono abbastanza largo di spalle però la taglia m mi sta discretamente giusta anzi essendo molto stretto di vita avrei preferito fosse leggermente più sciancrata però credo che una s sarebbe stata davvero troppo piccola considerando che in inverno una persona sotto c'è anche almeno un maglione io sono una maglietta mezzemanica adesso in questo caso vi faccio vedere che un power bank abbastanza spesso è fastidioso perché nella tasca si crea questo mattonazzo da questa parte e io quindi vi consiglio di utilizzare un power bank sì potente ma diciamo di tipo più ultra slim in modo da evitare che possa dare fastidio durante il trasporto ho collegato il power bank come dicevo prima è molto pesante però è ancora fattibile teniamo premuto il pulsante di accensione il led rosso indica la massima temperatura raggiungibile mentre se lo premiamo l'azzurro è la temperatura media e il verde è la temperatura più bassa io sento già con il rosso che si sta scaldando tutta questa zona la zona dietro guarda le spalle e la zona nella schiena e per un utilizzo ottimale vi consiglio di prendere questo gilet della misura giusta perché se è troppo largo rimarrà staccato dal vostro corpo e l'effetto di calore lo perceperete di meno invece se è molto aderente sentite sicuramente di più le zone riscaldate perché stanno a contatto con la pelle il gilet è molto buono sia di materiale tiene caldo anche se non lo accendiamo adesso lo spengo perché sto iniziando a sudare d'inverno secondo me è un prodotto veramente molto molto pratico molto comodo soprattutto in montagna o quando vogliamo rimanere un po più leggeri sotto ma rimanendo comunque al caldo è un prodotto che vi consiglio sì assolutamente ne ho testati e recensiti altri ma questo qui si colloca tra quelli che preferisco occhio comunque alla taglia